a me, tanti auguri 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 a me. Susan Kim? Sì? Sono l'agente Arcor, polizia di San Francisco. Mi scusi ma ha detto Arcor? Sì. Ah, si sono decisi finalmente. Dove sono gli altri che sono scosti dietro l'angolo? Signora, sa che la sua macchina è stata rubata. Dio, faccio un rapporto. Tanti è Arcor. Mi chiamo Arcor. Il nome di fatto. Bene, puoi entrare in casa e iniziare l'interrogatorio, ma lasciamo la porta aperta. Signora, volevo solo comunicarle che abbiamo ritrovato la sua macchina. Fantastico. Allora dov'è il tanga? Signora, ha fatto uso di droghe? Se ti dicessi di sì, tu mesculaceresti. Andiamo, sei nel servizio pubblico e oggi sono io il tuo pubblico, quindi inizio a servirmi. E' il mio compleanno. Ho 30 anni. Grazie. 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 Grazie.